Allora, quindi, dicevo, non bisogna mai calare la pasta se l'acqua non bolle, quindi prima è importante far bollire l'acqua, perché, non so se vi rendete conto, che quando l'acqua bolle, la pasta la cadi per poco tempo e ottiene degli effetti positivi. Se invece tu, ascoltate, questo è un concetto filosofico, perché adesso sto facendo anche i corsi di cucina, non so se lo sapete, ma in questo video tratto un po' di cucina, perché ho deciso che voglio diventare chef e quindi farò un discorso di cucina, quindi prendete la ricetta, carta e penna, per segnarvi la ricetta per questo discorso di cucina. E stavo dicendo che è molto importante per far venire la pasta alla cottura giusta, diciamo così, far bollire prima l'acqua, e una volta che l'acqua bolle al punto giusto, tu cadi la pasta e la pasta devi tenerla dentro poco, non devi tenerla dentro a lungo, perché se la tieni dentro a lungo, poi si scuoce. Quindi devi tenerla dentro un po' la pasta, poi tirarla fuori.